Adesso ci sale in bici, vediamo, ha messo il rapporto agile e più salita, bello quello lungo, non so quanto sta forse a 900 metri, continuo a salire, una bella giornata oggi, qui c'è una segnaletica, forse un percorso, vediamo dove porta, si, è tutto chiuso, o no, non lo so.